Ciao ragazzi sono Sheno Kakuna ed oggi siamo qua tornati con un nuovo video in Minecraft per mostrarvi oggi come creare una vera e propria vasca da bagno funzionante in gioco Ma come sempre prima di iniziare col video vi consiglio di mettere like a questo ultimo, iscrivervi al canale ed attivare la campanella e le notifiche per non perdermi nessun nuovissimo video Ma detto questo ragazzi, beh buona visione Inizieremo subito ragazzi col piazzere ben 4 blocchi di quarzo, ovviamente ognuno di questi dovrà avere una distanza di almeno 3 blocchi Ovvero ragazzi una cos'è del genere, ecco fatto Ora ovviamente passeremo col terzo blocco in questo modo e in seguito con l'ultimo, ecco fatto ragazzi Ora ovviamente noi prenderemo subito i scalini di quarzo e ne piazzeremo ben 3 in questi spazi di 3 blocchi Quindi ragazzi ovviamente ne piazzeremo 2 in questo modo ragazzi, ecco fatto E in seguito l'altro in maniera centrale, ovvero una cos'è del genere Ecco ragazzi, la formano una sorta di scaletta In seguito ovviamente rifaremo la stessa cosa per gli altri spazi, ovvero una cos'è del genere, ecco fatto ragazzi Ora passeremo al penultimo, ecco ragazzi ecco fatto Perfetto e abbiamo finito Ora ragazzi in questo spazio noi piazzeremo ben 2 blocchi di quarzo in questo modo Ecco ragazzi alle estremità e in seguito piazzeremo un blocco, anzi una scalina di quarzo però messo al contrario Ora ragazzi in pratica così Perfetto e praticamente ne piazzeremo ben altri 3 in questo modo Uno così e in seguito ragazzi l'altro nell'altro senso Perfetto ragazzi Ora passeremo a ricoprire ovviamente il dentro della vasca con dei blocchi di quarzo In questo modo ragazzi Quindi ovviamente noi spaccheremo tutto questo legno E piazzeremo uno slot di 9 blocchi di quarzo In questo modo ragazzi ecco fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E in questo spazio ragazzi noi piazzeremo un dispenser proprio al centro Che ovviamente ragazzi noi per attivarlo o disattivarlo quando viene a accendere la roccia Lo collegheremo a questo blocco con sopra il bottone Per poi creare un piccolo circuito di pietra rosso ovvero ragazzi una cosa del genere Ovviamente ragazzi cercate di creare una fossa alquanto spazio sia molto grande per creare questo circuito Ovviamente noi prenderemo la pietra rossa e in seguito ragazzi dovrà essere ben collegata A un blocco di quarzo che abbiamo sotto ovvero una cosa del genere Ecco ragazzi inizieremo subito a crearlo partendo da qua ragazzi ecco fatto E in seguito sarà ben collegato all'ispenser una cosa del genere Ora ragazzi praticamente noi ricoprirò gran parte del pavimento con i blocchi di quarzo Ma prima di fare ciò ovviamente vi farò vedere che il com anzi il circuito funzionerà alla perfezione Ecco ragazzi ricopriremo e in pratica beh ovviamente noi ora dentro l'ispenser Ci metteremo un sacchio d'acqua così ovviamente vedremo la funzione di questa vasca del bagno Quindi lo prenderemo subito ragazzi lo metteremo dentro Ovvero così ragazzi e in pratica noi quando premeremo questo bottone La vasca del bagno funzionerà alla perfezione Ovviamente ragazzi noi potremmo disattivarla e attivarla quando ci pare piace Ebbene se ragazzi come sempre il video finisce qui Ovviamente spero che vi sia stato un ringraziamento Lascia un bel like, iscrivetevi e commentate E in descrizione come sempre troverete la playlist di tutte le mie fantastiche creazioni che ho fatto finora Ma quindi che posso dire beh Ciao alla prossima gente